No, eh? Ci fermiamo qui? No? No, anche qui. Ecco, la tua, eh? Oh, che stai a fare? Tutta sta cazzo d'ancora, che ce ne andiamo a sfragli più in scogli, ti stai a dire? Ezzo, bravo, vuole avere piana, vai. Sei proprio venticappante. Ma che ne so, io pensavo che fosse legata. Scusate. Ha visto? Buongiorno, abbiamo buttato l'ancora. Il motore, puoi svegliere il motore, per favore? E come faccio? Vado a sbattare contro i scogli. Il motore va sbattato a 200 metri d'arriva, stai, è pericoloso. Fabio, tirami la paschera. No, la tua, la mia. Non lo dico io, ci sono delle regole. Mi scusi, stai. È contento? Grazie. Guarda, non ci butta la roba in mare. Lo so che non ci butta la roba in mare, lo so. L'hai provata? Vuole che sia una goccia di cocommero, ragazzi? Ma guarda che è biodegradabile, eh? È tutta roba naturale. Anche il telefonino c'è. Perché? È tuo. Cesalone! Mi mortacci, guarda. Quanto stai? A San Baudo. Guarda che sei bella. Che sta a fare? Beh, non sai che testa è perda. È un piatto casa, qua. Ho trovato, Rugger. Stavo in fondo. Grazie. 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 Grazie a tutti